Il CBI da sempre guarda anche oltre i confini italiani. Uno dei progetti più rappresentativi anche di questo è il progetto Capaci. Sì, il progetto Capaci è un progetto che è stato presentato alla Commissione Europea dal Ministero dell'Interno, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Consorzio CBI in partenariato e consiste nel esportare un progetto che era domestico, italiano, di monitoraggio finanziario che mira ad evitare l'infiltrazione criminale negli appalti pubblici, nelle grandi opere ed anche a monitorare la spesa del denaro pubblico. Ultimamente nel progetto Capaci sono state svolte delle stadi visit in Svizzera, in Spagna e ultimamente in Croazia che hanno proprio l'obiettivo di verificare che il progetto sia applicabile in questi paesi e quindi condurre una sperimentazione che deve essere terminata al massimo per la fine del progetto che è prevista per il settembre del 2014. Di questi tre paesi c'è qualcuno che passerà a una seconda fase? Molto probabilmente la Croazia, siamo stati a Zagabria e lì sia i soggetti che abbiamo intervistato dal punto di vista della Polizia sia dal punto di vista del Ministero sono stati molto interessati e si sono mostrati molto interessati e hanno già chiesto quale potrebbe essere lo svolgimento della fase successiva e quindi del training che prevede proprio che queste persone siano formate sulle attività previste dal progetto.